Vinizio Marchioni Buonasera a tutti, mi chiamo Vinizio Marchioni, ho 44 anni. Molti mi conoscono per i film che ho fatto, per la serie che ho fatto, molti mi conoscono perché ho fatto la regia di alcuni spettacoli con cui sono stato anche qui e con cui ritornerò. Per mia moglie sono l'uomo di cui si è innamorata dieci anni fa, per i miei figli sono il loro padre, per mio fratello sono il suo fratello, per mia madre sono ancora suo figlio. Come tutti quanti noi, insomma, agli occhi degli altri. Che cosa siamo? Però io quando devo pensare a me, quando devo definirmi, a parte tutte queste cose qui, mi viene sempre da pensare a me e mi definisco come un balbuziente. Quindi questo TED durerà due ore e mezza, mettetevi come. Perché mi viene questo? Non lo so, perché sono 40 anni che ci convivo con questa cosa. Sono 40 anni che cerco delle strategie per ovviare a questa cosa. Non sono uno studioso, non sono un logopedista, non sono uno scienziato, sono semplicemente un uomo che sono 40 anni, che convive e che studia, analizza questa anomalia, sicuramente. Che cos'è la balbuzia? Non lo sa nessuno. Sono 20-30 anni che qualcuno fa degli studi, cerca di individuare il gene che ci può essere all'interno di noi, che ereditariamente si trasmette. Non c'è uno studio scientifico che ci dice che questa cosa sia così. C'è chi pensa che sia ereditario, perché ovviamente lo sviluppo linguistico avviene attraverso l'imitazione. Quindi io, ascoltando mio padre, che anche esso era un balbuziente, forse ho imparato a parlare in questo modo qui. C'è chi dice che ha a che vedere con la psicologia, nel senso che ha a che vedere con delle insicurezze, con la ricerca di affetto quando siamo piccoli, nei confronti di nostra madre, di nostro padre, eccetera. Ma la verità è che nessuno sa un cazzo sul balbuzio. La verità è che non esiste una tipologia di questo fenomeno simile ad un altro. Cioè non esistono due persone che si impicciano alla stessa maniera nel mondo. C'è chi si impiccia sulle iniziali. C'è chi si impiccia sulle sillabe. C'è chi si impiccia, si impiccia, si impiccia ripetendo la parola. E via dire così. C'è chi si impiccia su alcune consonanti iniziali, chi su altre, chi sulle S, le F, le M, le B, eccetera. Questo che cosa provoca? Provoca che non si possono avere dei dati, non si possono avere delle cose. Tutti danno per scontato che il fatto di imparare a pronunciare delle parole sia semplice. Si inizia, le prime parole si dice mamma, papà, merda, cacca. In realtà non è proprio semplicissimo il linguaggio. Prima di tutto perché è l'unica cosa che ancora, ringraziando il cielo, ci distingue dagli animali. L'essere umano ha imparato a decodificare, a comunicare tra di noi attraverso un linguaggio, che è una cosa enorme, ragazzi, su cui noi oggi, abituati a scrivere, a comunicare, ad avere una mole di informazione velocissima, ogni secondo diamo per scontato che possiamo dirci ciao, buongiorno, come ti chiami, da dove vieni, come è il tuo nome, chi è tua madre, chi è tuo padre. Questa cosa è l'unica cosa che fa dell'essere umano un essere umano. Ed è una cosa su cui riflettere, insomma. Quello che ho capito in questi 40 anni è che la balbuzia, secondo me, è un'arte. È l'arte di imparare a parlare per tutta la vita. Perché io ancora oggi non sono in grado di parlare. Ancora oggi devo concentrarmi, ancora oggi devo mettere in moto tutte le conoscenze che ho imparato durante gli anni di studio, di recitazione, di scuola, per parlare davanti a voi, ad una platea così, senza avere un ruolo da recitare. Ed è una cosa difficilissima. Succedono molte cose nella vita di chi ha questa anomalia, nel senso che vedendola da fuori ovviamente fa ridere o ci colpisce, ogni tanto ci viene da finire noi la parola della persona che stava parlando. Però chi ha questa anomalia per tutta la vita cerca delle strategie, cerca delle strade nuove per dire quella parola lì. Questo molto spesso significa che se io sono in pizzeria con gli amici, a me piace tantissimo la capricciosa, porca miseria, solo che io mi impiccio sulla capricciosa, ordinerò per tutta la vita la margherita perché è fluente, perché non mi impiccio. Se io devo invitare a cena fuori o per il primo appuntamento qualcuna o qualcuno, non le dirò, ti va di andare a prendere un ccc, un ccc, un ccc, perché nel tempo che io devo dire caffè, lei già mi sta prendendo in giro, io sono diventato rosso, vorrei sprofondarmi per terra e allora gli dico, ti va se andiamo a prendere un tè? Anche se il tè mi fa schifo. Queste cose succedono davvero. Un'altra volta mi serviva da ragazzino, dovevo lavorare, mi servivano dei soldi, quindi è la cosa più semplice, cercarsi dei servizi extra come cameriere. Mi presento da un tizio, io non mi presento mai non perché sia un antipatico, ma perché mi impiccio sulla V, quindi per dire il mio nome ci metto un quarto d'ora. Quindi per non presentarmi con il nome di Vinicio, gli dico che mi chiamo, ciao, mi piacere, sono Andrea. Lui mi assume perché ovviamente non volevo farmi vedere che mi impicciavo, perché andare ad un tavolo, prendere un ordine, parlare con i clienti mentre ti impicci non è proprio la cosa più semplice del mondo. Quindi mi chiamo Andrea, lavoro, a un certo punto mia madre chiama, che non mi chiama mai nella vita, chiama perché era successa una cosa dentro casa, non lo so, chiama, il proprietario risponde, mia madre cerca ovviamente Vinicio, il ristoratore ovviamente gli dice che non c'è nessun Vinicio lì dentro, torno a casa e mia madre si incazza perché pensava che fossi andato a drogarmi da qualche parte e gli avessi detto una bugia. Queste sono tutte delle piccole cose che succedono e su cui magari nessuno riflette su chi soffre di questa anomalia. Di questa cosa ne soffre l'1% della popolazione mondiale, che non è proprio noi quanti siamo qui più o meno, siamo più di 100, a parte me che sono un balbuziente, forse c'è qualcun altro che ha dei problemi di fluenza, si dice così con un termine molto poetico anche. Che cosa succede da piccoli, per esempio? Succede che la prima cosa è che i genitori vanno in ansia da morire, perché ovviamente ti trovi davanti qualcuno che vedi che ha una grossa difficoltà e immediatamente pensi che tuo figlio è fragile, immediatamente pensi che tuo figlio sia debole, immediatamente pensi che tuo figlio verrà asfaltato da una società che va di corsa. Il problema è che quest'ansia il figlio la assorbe tutta, semplicemente. Mentre invece il figlio, che ha 3, 4, 5, 6 anni, è un bambino e parla come parla, se ne frega che si impiccia, perché è un bambino, non ha ancora la coscienza, la consapevolezza, il giudizio e l'analisi di individuare i segnali che gli arrivano dall'esterno. Crescendo i bambini sono violenti, sono cattivissimi, sono delle merde e quindi ovviamente si creano delle situazioni difficili a scuola, però io tornando indietro mi ricordo soltanto che io davo delle grandissime capocciate dietro sul muro, perché ovviamente ero un po' timido, mi vergognavo un po' di questa cosa e mi mettevo all'ultimo banco dietro. Per gli spasmi che avevo mentre parlavo, davo le capocciate al muro, però al di là di questa cosa non è che io stavo da solo mortammazzato e non giocavo, o ero triste, o ero il piccolo fiammiferaio, andavo a fare dei compiti, giocavo a pallone per strada, non ero escluso, non ero emarginato. Dico questo perché negli ultimi due o tre anni sui social mi scrivono moltissime persone che hanno questa anomalia, perché io sono diventato quello che ce l'ha fatta, sono diventato quello che è riuscito a fare l'attore, non credo di essere riuscito a fare niente ancora, lo dico per chiarezza nei confronti di tutti. Però è importante comunicarle alcune cose alle persone che stanno a scuola, a quei ragazzi adolescenti che vengono presi in giro, che, insomma, per tutto il discorso degli haters e del bullismo che c'è in giro. Ho preso degli appunti perché non mi ricordavo niente assolutamente. È che secondo me bisogna lasciar fare un po' alla natura. Molto spesso mi sono informato, in 40 anni di vita ne ho visti tanti, di discorsi motivazionali, di corsi, di specialisti. E la maggior parte di questi finisce sempre con la frase straordinaria che dice dalla balbuzia si guarisce, anche con un tono molto emotivo, no? E empatico, che è quello che si vogliono sentire dire alla madre e il padre di tutti i balbuzienti del mondo. È una cazzata. Da questa cosa non si guarisce. Mai. Semplicemente perché questa cosa da un'anomalia del modo di parlare si trasferisce in un'anomalia del modo di pensare. Cioè io mi impiccio perché formulando la frase so che devo dire una parola con la B, per esempio, e quando arrivo a dire questa parola con la B mi impiccerò sicuramente perché già lo so. Il mio pensiero per sviluppare una strategia di comunicazione si è sviluppato velocissimamente e quindi so esattamente dove andrò ad impicciarmi e quando arriva quella parola mi impiccio. È un cane che si rincorre la coda in maniera incredibile. Il problema è molto complesso nel senso che se io sto da solo dentro la camera mia non mi impiccio. Io prima stavo giù nei camerini ripetevo queste cose che mi sono scritte ed ero fluente. Figo. Arrivo qui e mi cago sotto. Quindi molte persone dicono il problema si ha quando si entra in relazione con un altro. No? Però la mia domanda che mi sono fatto in 40 anni è ma se io sto con la mia compagna che mi ama mi accoglie e sono tranquillo perché mi impiccio? Se io sto con la mia compagnia di amici con cui esco da 15-20 anni che mi conoscono mi prendono un po' in giro però fa parte del gioco perché mi impiccio? Il problema forse non è la relazione con un altro. il problema è chi sono io? Chi sono io dietro a questa cosa che si chiama balbuzia? Perché questa cosa che si chiama così arriva molto prima di me e le persone conoscono me attraverso questa cosa e io sto dietro e chi sono io dietro a questa cosa? Chi sono io se non balbettassi? Io non lo so come sarei se non avessi questa anomalia. Il problema forse è mi ha fatto tre minuti sta più all'ansia di questo tempo che arriva perché il problema è esattamente questo è una asincronicità rispetto a un ritmo. Abbiamo sentito prima quel signore del della merda che ha fatto così per 15 minuti e non mi sembrava normale una cosa così eppure parlava fluentemente milanese parlava della merda così ok il problema è che un balbuziente non ha un ritmo interno non l'ha trovato e il problema forse è semplicemente togliere il problema di focalizzarsi l'ansia di chi parla in un pubblico avendo questo problema sin da piccolo è spostare questo pensiero ma è cercare di concentrarsi su un flusso sul fiato sulla respirazione sulla conoscenza dell'apparato fonatorio sul respiro perché siamo tutti diversi non c'è una persona al mondo che ha lo stesso timbro di voce non c'è una persona al mondo che ha lo stesso ritmo di parlata non c'è una persona al mondo che ha la stessa cadenza di parlata di un altro e quindi io sono diverso rispetto a cosa? parlo diversamente sì, mi impiccio un po' di più di voi ma non sono diverso rispetto a che? l'esperienza teatrale mi ha aiutato semplicemente perché mi ha dato la coscienza di me quando dico che il teatro mi ha salvato la vita non è una frase fatta durante le interviste mi ha salvato la vita perché mi ha dato un'identità mi ha fatto conoscere degli strumenti che spostano ai miei occhi il problema e mi ha dato la struttura per poter essere qui davanti a voi e poter parlare più o meno fluentemente cercando di convincervi che se vi trovate davanti ad una persona che non è fluente tenete conto che lui ha una cosa molto più grande di voi o che usa una cosa in una maniera molto più profonda di voi che si chiama ascolto chi ha un problema con qualsiasi tipo di chi ha qualsiasi problema chi ha qualsiasi problema tipo di problema con il linguaggio ascolta di più guarda di più osserva di più e osservare non è guardare osservare significa avere un tempo di riflessione dopo aver guardato un balpuziente è una persona che sa perfettamente e conosce la fisiognomica delle persone che ha davanti a sé semplicemente perché è uno strumento di comunicazione diverso da quello che usa la maggior parte delle persone e semplicemente perché in 30, 20, 40 anni ha dovuto trovare un'altra strategia per capire con chi poter parlare quindi se vi trovate davanti uno che si impiccia quando parla dategli retta un po' di più semplicemente perché il fatto lui di conoscere di più di quanto voi possiate conoscere lui e a chi si impiccia dico un'ultima cosa chi vi ama chi ha tempo chi si fida di voi chi ha capito intuito che dentro di voi c'è qualche cosa troverà il tempo di ascoltarvi non prendetevi l'ansia che arriva dal mondo chi non vi ascolta chi se ne frega lui si è perso qualche cosa non certo voi grazie mille grazie Grazie a tutti